l'isola dei famosi il canale dei famosi a cos'è sta gara cosa c'è scritto sopra non è che aspetta c'è scritto sopra oh sta cosa si mettono gli anni per farlo che c'è scritto sopra c'è scritto sopra la h a bo il nome del credo quindi di abbo ma è garassante questo non è garassante non è ne so i haha perché c'è 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 città teoria e fronte i ragazzi fronte no adesso muoio che poi ragazzi mi spiego questa non sarà ma non che non dicevo non sarà una gara chi finisce prima sarà una gara a cercare di finirla punto va bene questa è ancora facile ma le prossime ma la lista è messo il senso il senso è messo a finire ho messo l'acqua amore di domenica vendita non si 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 siamo sotto quanto che io devo io devo ripartire al inizio ma questa è la più facile ce ne sono altre facili però bastardo no aspetta ma mi ha detto no a bensi che non c'è l'inizio ma ecco devo imparare lento qui ora devo andare veloce devo andare veloce ora devo andare ragazzi che non sono giocato perché facendo cose belle ma che non muoio ma quando vado giocato ecco qua dove dovevo andare veloce vado più antico mi dicono poi l'eretico finito male che manco francesco sa faggio stia usando la stia usando il fagio no 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 per chi è il suo tanto il fagio ma perché la prossima gara col fagio una prossima gara ho detto la prossima quella che è così quello schifo di motorino manco riesce impennare ma è possibile usare una si no no io non credo perché sono un coglione voglio parlare tanto letto io ho fatto tutto quanto vedo io ti odio ti odio tu quel faggio ne sapevo già perché lì si era modificato era il faggio se l'è fatto e facciamo di tutto quanto adesso impegna pure quella schifo quella che quello schifo come la panto la vantumino non parla al solato avanti e giustamente meglio la quanto io non lo devo fare io ho fatto ma io dovrei tornare indietro non mi venire contro oltre schianti da qualche parte c'è da fare l'alex attenzione me lo vuole che sia andato brutto stronti vai verso l'infinito e oltre haha cazzo ti ridi il top oh ottimo dove sono arrivato cazzo schiedi al suo canale perchè lui fa dei video videosi no non capisco nulla a sinistra io ho chiamato a destra qui non da a destra ma perché la di sicuro la buio stile sono sicuro che non avrete uguale fiderei ahhh infatti sto mangiando c'è tutti i guardi una live mentre stai ma come a me Alex sta mangiando guardando la live sta mangiando ma che servono in jpeg live 6.000 dollari buone dovrebbero essere tipo dei nuovi soldi ma non li hanno mai messi ma da 3 anni guarda un attimo di là aspettate una e su cosa e su tondo di umano tondo di umano attenzione sono forte ma era bellissima alle squadre la faccio per anche te alex come se me alex guarda la faccio per anche te alex stagare un prossimo video vai la prossima sarà più difficile guarda me ne salvo le faccio fare a lui segale dopo e gli le faccio fare un video una di 15 non le dovremmo fare tutte 15 ma tu sei malato anzi no come quello come quello quendo all'elementare tu scrivi come un malato tu scrivi come un malato ricorda ma lo sai che volevo fare perché questa era difficile chi faceva tutte 15 oh io c'ho la proto qua chi è la scrodo no perché garage no che odio no gta deve essere non ci possiamo picchiare cioè non ci dobbiamo picchiare altrimenti non funziona il teletrasport perchè mi hanno messo dei raggi che ci provocanti allora no non ci possiamo usare non possiamo scendere però possiamo dare i raggi come cazzo si sparano no 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 perché non posso usare ancora anche ora qui sparavano ah con il led con il red con l cos'è che sarà benorme qui che cosa questa roba nel mio conto con le città nonostante stavano fatta turbo lato di risulti il lato non lo faccio non lo faccio pagata vabbè dove oddio ma che cazzo c'è io non posso e canale questo questo l'ho creata io ho cercato le migliori mappi online non ma scusami dove la trovi dove la trovi scuola che ho filato ho mancato il checkpoint vabbè ragazzi non so però io non ti posso vedere allora ho vinto ormai non mi vuoi più rilevo ma è già finita ma come ora sono sottoterra ormai sono sottoterra quindi prendi della scorta appunturata ma perché non funziona questo è il problema scuola dovrebbe funzionare scuola ma che cazzo ma che cazzo ma dove sono sottoterra pure io wow sono primo pure è pure primo ah spiego volevi schifo ti piacerebbe ti piacerebbe ci trasportiamo un'altra volta cazzo siamo arrivati ora dovete si può esplodere e venite le trasportate a piedi aspetta me ci picchiamo un po' non finire la gara non finire la gara perchè? ah no ancora non finisce è tipo qua il bull around voglio fare questa roba devo provarci penso che ci dovremo un po' più chiara perché? quindi non finire la gara come sei il primo? aspetta ma perché sei il primo? penso di averli supercce fuori ma fe ah no ok vai primo no ma è baggata cioè tra poco te ne accorgerai che è baggata avrei una casa che 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 ah sono tipo mezzo esplorirai mi ha fatto di partire ma è tipo esplodere una cosa del genere tipo ma guarda che non si è esplodato ma è tutto normale perché c'è una po' perché sto entrando in una porta? ma che vuoi essere il tele d'asporto? ma che cosa? oh no johnny guanderse ciao non sai lì oddio o meno mi ha preso il check point dell'esplosione posso prendere posso uscire i razzi da fermo? eh no magari ma io volevo ma io volevo ma io volevo no ma cosa ho detto ma io mi posso uscire dalla porta ma è stranissimo sotto il numero fa ma non è bagnata mattina da te l'ha sfruttato sbaglio guardo non di essere da sport bello si fa esplodere come giusto che sia mai mai fatto so fatte spodere ma anche se sappiamo chi sei c'è giovanni elementari che scrive o ciao una tondonone rispondo e c'è maroni mi piace è talmente bella che è strana ma come ti ha fatto a non vedere a sfruttare non si non lo so è buggato ma non so io ma è due di 15 sono primo no queste questa è quella faccio con la panto sono sicuro si è quella fa questa è quella pagina se con la pagina non lo so ma io l'ho detto c'è io ho detto quando l'avevo saputo e poi lui si è pensate che fa gesto di impegna pure quello schifo ma no ma non altro ma non solo giro però non finiamo più ciò vuol dire che sarà difficilissima se non sono giro dire è difficile wario scambetto 10.000 mi estime non è difficile per lui no ma siamo ancora nelle dare così appena ne trovi una difficile no non è mica questa no non è mica possibile che non riesco messo a fare ragazzi questa live finirà domani cazzo è mica quella è quella che mi fa tutti le macchine di merda ci credo non mi pare omo interno sono di più bravo ho capito perché la proletta e 70 pro modificata che sono 40 e guarda qua perché sto passo che ti ho fatto non proprio ma cosa la prato che la bellissima di un gioco mi ha detto ma io non vedo niente aspetta io non vedo nulla eh mi sono staccato mi sono staccato dal muro no perché fate pochi video di cento giochi è perché 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 sono dei coglioni ma devi dire prima che l'ha detto che io lo so giovanni giovanni non giovanni aveva mai non sapevi farla questa gara è meno male proprio non è questo appunto andare nei dubbi tutti lo sanno fare e che non lo so scrivetevi al mio canale se volete grazie sì però una domanda non voglio aiutarti è semplicemente come piccato ma questa è difficilina sapessi chi sei se almeno mi ho scritto se nota ma sono allora guarda se facciamo le collaborazione cosa dico una cosa ecco questa ora prende la prima botta o non ci riesci più cioè è quella che mi ricordo io se non ho sull'area di voto a tutti ed ma c'è appena vado allo ma tu dove sei qua lontano molto devo aspettare devo aspettare un poco che ho fatto un caffè e ecco dimmi quando ripartirò così stai girando intorno aspetta appena vado su qua vai a ripartire va aspettare sto girando no cos'è questa cosa musica epica luci effetti sonori ma questa va alla prima perché gli stanno gli aiuti c'è ho messo la scia ok 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 ad aspetto dai ho aspettato tre volte ma io ti aspetto pensiamo fosse più impossibile come gara di nuova vita no ancora devono arrivare le gare difficili rango sento qua 504 quanti user ci sono uno che era uno ai giovani no 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 ma arriva gente ogni tanto vede lascia un commento e va bene non ti è piaciuto come gara beh ovvio e meno che il mio botone è giusto si sto facciando un boom e non ha concluso per colpa del gioco perché è scritta dove la storia adesso ti penso che non è vero non è scritta oddio a ciao antonio comunque da questa tre giri vanno bene nostri anche se lì che facile come sai ti odio e non poco tanto un mega shisha ramp sh 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 fatto avvio rigato sarà da 2 cazzo sbagliato sarà da 2 era l'altro da 3 in quanto ridiamo mosso la scuola vabbè tu guardi venti ma non è più veloce anni l'uno puoi anche spegnere il conto il quale è che nel caso cerchiamo vai 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 la macchina io alberto io alberto cittadini l'ammerdosamente migliore quanta gente ma non fate che ti puoi scrivete commenti per bene andate ciao ciao andrea romano dovete rimanere per tutta la vita ma pura l'ammerdosamente 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 ti odio l'ammerdosamente l'ammerdosamente e c'è 220 iscritti 222 222 e poi su instagram ce ne ho 300 una volta è possibile una volta una volta c'è una volta ragazzo una volta ragazzo una volta si è mai su instagram comunque ti fai il follower come come non so non so è facile da fare cioè non so ma a me non ho come da caso che pubblichi foto non video l'ammerdosamente però hai visto il video no guarda ti pare che mentre facendo l'alarm mi vieni a vedere il video vai no tu sei proprio indietro eh gesù guarda c'è muoio che facendo giro stavolta non da su mettiamo un po' di ragazzo puoi decidere che fai non mi intrazioni con i fangli si si ma si sono eh mi chissà non lo vedo adesso ho anche perso il controllo i fans vanno in dread dei nudi io non posso oddio non ho preso il fermo non so se è una buona idea no mi si ha spinto il controllo dicevo oddio mio ho perso scontrata di nuovo ah adesso mi sono spinto sei un debutto ma che bello ragazzi nè c'è tutto ma non ho preso ma non ho preso non ho preso aspetta forse riesco a metterciare prima vabbè ma io mi rotolo di gaffeggi non lo so ma a me si è rotolata la macchina no ma ti pare che ma mi aspetti un momento poi continui su avanti ma a me si rotola la macchina ma è tutto ma aspetta ah ma quelli tu ma anche mi sa che poi dal punto della fine del tubo qua ma aspetta aspettami aspetta mi la fine del tubo a meno terri nel quale difficile sto E' un po' difficile con la parte dove ci sono quelle robe che girano Ma? Se non è... Oh! Ho fatto una pirouette Aspettami all'inizio dell'ultimo giro Dai, guardiamo insieme Che a me è stato mancato sto giro Sì, ma non penso che posso fermarmi in salita Ma prima della salita Eh, non posso, non penso che posso già fermarmi in salita Prima della salita ti fermi Eh, ma perché tu abbia la vita, no? Dove sono adesso? Io ho salito Io sono citati Se non la fermati al traguardo, vuoi venissi Noi vuole prima Tu prima esplodi Prima esplodi Prima esplodi, poi vinco Non è veramente me Sai che è un tollo? Che? Quel rallentamento che mi fa incazzare come no Cosa? Mi è fermata la macchina? Mi si fa fermata No, protolo, protolo Ah, di cazzo igienica Mi si è sfrutturata anche a me la macchina Si è arrotolata anche ora Si, l'avete vista la rotona di Dragon Ball Super Non parla fitta questa, quindi sicuro non l'aveste Ora vengo, sicuro come l'hai Dai, intratteni Panzo Panzo, fatevi intrattenere da Kikon Dove sei andato? No, semplicemente mi stavo mangiando una scatoletta di toffo Ragazzi, io faccio una domanda che veramente il mondo non sa spiegare Secondo me E' andato, prima L'uovo o la gallina? Io so, rispondo Mi dico A cento miliardi di like, rispondo Si è arrotolata la macchina o l'ho riuscita a riprendere? Si, però E' però E' sono il capo della camera Quindi a me è lo prima dei like L'uovo Giovanni ha scritto, fa schifo della gombo Ma che voli via? Non lo so Non va E' Antonio Romano scrive Secondo me sei nato prima tuo Francesco Quindi Forse è vero ragazzi Forse è vero Che grazie? Mamma Non ce l'ho mamma Cosa piace tua madre? Ma no, senza motivo Così a casa Non vuol dire mamma Non ti vuol dire? Non ti vuol dire? Non ti vuol dire mamma E' nato prima No, sono nato nel 2047 E' come Dai la prossima mi sa che è quella difficile Ah, scommetto che se lui mette Se lui la prossima la vince Mette like E' dislike Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì macchina un paio fanno caso che fanno scagazzare quelle quanto marrone torrente ma tu hai modificato ma quale uso avanti non ce l'ho modificato usano abbrioso la biocchia no è alimentata bios ci mettono le brosce nel cofano e non si motorizza no ma sono proprio questo potenza in vita poi c'è con delle ruote in valutazione ma la modificata fomini ce l'avevo una volta proletta che fa cagare ma è impossibile sagara avevo già iniziato bene ma non mi ha fatto più bello ma ragazzi se voi non avete voglia mi piace andare a dormire perché questa gara ma deve a fare un paninozzo questa gara io ci ho messo un'ora e non mi sto dicendo il numero cosa per dire ma cosa sto scrivendo johnny chat che schifo ah lui ho un grande johnny è il grande mi si è ingriggito il pelo per la rivolta ho tirato il penne ma un grande ma che cosa ma anche te scrivono questi commenti live ma non mi si è ingriggito da queste persone mi sa che ti riscrivono che tu sai fatti due domande su chi è questo ma lo conosci ma anche io non lo so come volete la gara dove sei tu se io so ma c'è una macchina che che sgocciola ma vuoi questa gara stava scritto panto tu cosa fai? è una sgocciola questa macchina che non hai preso la panto? guarda questo è il problema non lo so la panto è brutta è più piccola ma stava scritta panto tu cosa fai? eh no veramente manco l'ho letto lo stesso tipo panto una cosa del genere ma che palle dai ma la prima parte è la più semplice ma cosa è possibile? bene la faccia usa cinquantamila like di ola password del canale di francesco così tutti c'entrata in barbara che poi scrive cose a caso l'utilizzo a fila lezioni di scienze paese di scendere di ricordi che non c'entrata e doveva leggere quella parte della penna della penna della penna e tipo e fare schifari subvenendo oddio la prima parte prima di ce l'ho fatta trevo check point il cacchi punto il cacchi point nooo per un millimetro troppo cazzo questa macchina va a merda fa duecento chilometri in duecento giorni e mo che fa vuole andare veloce eh ma ce l'ho modificata io ma ce l'ho modificata pure vedi su che schifo ce l'ho anche niente di me niente di più eh ce l'ho anche modificata ma quando non riuscirei mai a fare quel punto dove sto quello prima di me no ragazzi eh puoi concludere la gara che non la finisce ormai no 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 almeno io la devo finire che io ci riesco ah punto dico finiscila io ti posso pensare bene ti amo faccina con che dai il bacio con tu vicino johnny sempre johnny e giovanni ah johnny è un grado ah per te appunto esclama a devoto perché sempre johnny è un grado johnny è un grado non ti prego no no macchina dello schifo ma ragazzi io comunque voglio giocare serio impara appunto sì ma io non so perché andare a guarda cosa sono solitamente lui si alza fancii ma fai piano nooo non ci riesco ad andare piano poi se non hai capito dai ma c'è una cosa ampissima simmo pure io ma che cosa è che quando i miei muto io gli schiavo perché adesso dico parolaccio come un malato per questo mi muto di tanto non mi viene insomma io su twitch prima che stavo di youtube dai ti non ci credo ragazzi io mi ammazzo io mi ammazzo anzi ammazzo la live io so ammazzo il televisore basta 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 ma c'è il video è con tonno vedete che non muoio vediamo vediamo se cade non muoio se cade non muoio se cade non muoio ma con la macchina non è sicuro che credi sempre oh dio un rito sono cato da 2 miliardi di chilometri solo su città possono muoire bestemmi ma tu bestemmi perchè te ne va bene ma chi lasca di sì è già beggione scrive bestemmiate 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 dove si accade ma giorno o giovanni johnny chi è johnny giovanni ora e chi no autogia giovanni si me lo saluti sei parlato dell'amore e lui ci sta sentendo in live quindi pensa un poco ma mi senti ti senti sei live vedete quando c'è hai fatto 40 milioni di live ho detto giovedì 20 settembre 2014 a scuola ti credo alle ore 12 e 26 dai se mi dice ciò che ti ho detto il giorno 12 settembre 2014 a scuola alle 12 e 20 ci credo per lui cioè io non lo so tu gli hai detto a giovanni cosa ti ha detto lui il 2014 il giorno 27 settembre si cosa ti ha detto il 27 settembre a scuola cosa il 32 settembre ah no è ci detto il 32 settembre cosa ti ha detto 32 si ce l'ho fatta eh si il 32 prima parte finita vai adesso ora 12 settembre il 2014 settembre ero coglione alle 12 e beh tu sei sempre coglione questo non hai capito si si e come c'è la di cognome la mestra che ha fatto di maestra la maestra e 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 la maestra sto non ce la faccio più la mia qua fa più fa più fa più regola fa più regola cosa vuol dire la regola 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 del faccio eh si è messo mi sembra necessitare forse non lo sapete questa gara madonna mia tiro di quei di quelle madonna c'è non lo so non lo so adesso faccio cadere su cazzo di armadio ok ti prego si non ci credo ah questa parte è facile con questa mattina dovrebbe si fa ah dai dai si si t'ho raggiunto intanto eh ti ha raggiunto intanto si ma a me a me staca t'ho rotto il cazzo allora potremmo determinarla forse no capiamo o niente ce la si può fare no 13 quindi andai pure a mangiare vabbè si salvo dobbiamo andare a me cazzo 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 questa è la data più facile comunque della appunto deve esser facile questa parte qua madonna che mi spingevi se mi spingevi se mi spingevi se mi spingevi tu sai cosa ti ho fatto spinge ma ragazzi ok ragazzi poi c'è arrivata non vai vai c'è come iscrivetevi commentate spammate ma questa è la tua altra e come la mia storia mi sono mica il tempo questo è la nuova dobbiamo finire dobbiamo finire questa da mine di gara di far schifo non diciamo non no no diciamo non ragazzi adesso d'altro in poi quando finire il video dirò oh no no oi oh no no come il mio 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 come non buon bo non c'è una trega un canziano ho fatto ora mi fa la salita dai no la salita i i i i i i i i devo rifare tutto d'acqua allora per l'ultimo allora ma non ora via calma 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 no ho fatto un sì e io no tu sì e io no eh io sono stato uno e vabbè poi qua si è ah giovanni se non l'avessi capito noi non vede tu cosa stai scrivendo si madonna mia polo con un po' ci sono con il perito io che ha scritto affetto vedi il video su whatsapp e ti ho mandato ma lui non ha capito che lui non vedi commento no 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 ti voglio bene ok cosa succede perché macchino che video ha mandato modo lo so e non mi chavo il video cerchetti come ho mandato 1 tc quando la macchina che pulsi di piscio sua macchina magari c'è di culo sua macchina un po no 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 ho mandato un video non è l'intero santi che qua tipo quando quando tipo c'è un audio è un bordello un giorno un video un cane no ok a me che è un cane no si ragazzi supportatemi con un commento ragazzi un commento mi servirà se lo possiamo comprare un po' il canzone grande meno ferrerico pasquale pratico ammorto ai guanti cc c c c c c c c c e c c c c un c c c 12 giro in arrivo a parte non so nemmeno farla per due volte no ti odio ti odio che schifo che mi ha 3 giro? 3 giro? 3 giro? 3 giro? ma lo facciamo 4 minore e 4 ore a 1 no cazzo non solo giro però ripeteremo tutte le prove 2-3 volte perché facciamo sempre le stesse vedi tutte le prove tra un po' tutte le prove che abbiamo fatto fino a modenta cerco vuoi c'è i bidoni la salita il salto tutto dentro si raccomando ma non capisco sbaglio ricominci da capo sì va bene a me si bagga pure però c'è l'ultimo giro per tutto quanto di c'è ultimo c'è tutto quanto di fila e se non ci riesci niente boh perso devi ricominciare tutto a cavolo diciamo la parte di qua l'ultimo l'ultimo giro il primo checkpoint ebbè si mi parla l'ultimo giro perché c'è tutto quanto giusto tutto in tutto il giro a mi dice se questa la cara poi io non ho ragazzo e voi dite mi sento prima il tonno o il pappagallo tonno il pappagallo pappagallo ha cagato il tonno no ma anche il pappagallo è un pesce pesce pappagallo da mi iniziano con la p pesce finisce con una vocale appagallo riesce con una vocale ma ma questa la teoria dell'universo il pappagallo è fatto di farla il tonno è fatto di farla di culo ma sbaglio alcuni che poi c'è una volta il checkpoint qua adesso io stava tipo davanti alla rampa la cambia di check void no che è fatto se si vede dai dai entrambi amane grissini di tonno non si rompe non si tirano un grissino su un pappagallo nel luogo quindi non si rompe un grissino sembra il pappagallo raga che cosa che pensavo eh si il grissino però ho fatto di cemento cioè fatto di due cose e basta però che cazzo oggi non riesco a fare le gare bastarde eh che finisce male funziona ancora il controllo no si allora starasha starasha ciao starasha ciao starasha starasha wow è solo un po' becchio a francesco voi lo sentite ancora le ralento voi ho sentito 100 000 like lo senti ... ma ancora la stanza non c'è file finta che non ti andiamo così e lasciamo 500000 like No, ragazzi ma Ma che lo sento non è scoppiato ragano mi sentono ma No, non mi sento. Mettete 100.000 like. E' esatto. Se andiamo a 400 spettatori poi mi sente come ragione lui così Posso sentire John scrivevi sentito. No non ci sentiamo Questo così credo così so basta E poi dicono eh ma video fake youtube fa a cagare Ma il checkpoint non è più là Ma il checkpoint non è più là è cambiato adesso Andiamo nel salotto 43 Che vale Se lo becco alla prima Veramente lasciate 447 like Anzi lasciate Credo che abbia 1022 like Non ci credo Ho ribalzato giù Sono ribalzato di sfrotto non ci credo Ah ragazzi voglio mille Lasciate 1.200 Ah la voglio esattamente 427.000 847.400 Mi piace A questo video ragazzi E' esatto E' esatto Non è da giungiare anche 2 like in più Vedete ho fatto la banca il flip con un drive playboy tv Esatto Iplay Siamo a 40 minuti di video e 20 minuti che siamo stati su questa gara Andiamoci conto ragazzi Io sono ancora alla parte iniziale che tu non so Altro che Bistar che ci mette due secondi Ma cosa ragazzi E' esatto E' esatto E' esatto E' esatto E' esatto E' esatto Ma chi Ma chi sono Guarda la macchina mi ripalta dietro Oh non ce l'ho fatta Mi ripalta la macchina che ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Voglio esplodere Sì sì mi piace Due che è moro Eh io sono morto Moroi Ma chi c'è ancora online? Online C'è un sospettore online Arriva a 4 spettatori e carico 47 video di fifa Di fifa o di fifa? FIFA Lo faccio per voi come ciccio game Lo faccio per voi come Disson game Come ciccio game Ma dove sei? Ma tu sei solo di me Ciao Sei qua sopra tu Ciao Sì Fraga Non c'è tipo Io Dai abbiamo quasi finito Proprio ma Tutto un passante Epico finito male ragazzi E il prossimo scherzo lo facciamo al postino Come si Come si finisce ragazzi? Aspetta un attimo Ah Vabbè ti aspetto dai No 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 terminala No Voglio fare quattro ore di video No scherzo No ragazzi No No Aspetta un attimo Lo faccio tu ragazzi Io stacco E come ultima domanda vi faccio E' nato prima E' nato prima E' nato prima La luce Oppure Oppure Tanto prima Il L'iphone Domanda delle gente Dico Vabbè ragazzi Diciamo Diché Diché Che la live potrebbe essere Netta Per cui Per cui Per cui Per cui Poi No 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 perché se Se non finiva Prima devo finire Sustanze Poi potevo finire Vabbè comunque a 447 Commenti 400 mila iscritti E 27 miliardi Di spettatori Ehm Facciamo un'altra live Ma forse facciamo Una la faccia un'altra live Vado mi sto fissando ma questo live faccio qualcosa dopo faccio qualche video destro dopo allora ragazzi ci vediamo alla prossima non mi ricordo come si chiude questo live wait a moment ecco ragazzi in posizione della smissione ciao a tutti